Nettorchiani, twittatori, molenziani e grittleriani, poi a te buongiorno. Oggi Radio Stilo è arrabbiata, è arrabbiata perché ho guardato un po' di notizie sui giornali, notizie di ieri, ieri l'altro, noi si continuano a pagare e gente continua a rubare, gente che dovrebbe controllare, quindi quello della Corte dei Conti, quell'altro dell'autority, quell'altro del ministro o il socio del ministro, continuano a rubare, a rubare, a rubare e noi bisogna pagare, 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 cioè ma non hanno vergogna questa gente qui? Veramente, ora non hanno più vergogna, sabato, cioè sabato che poi è stato venerdì, ma insomma, nove persone arrestate, appunto il presidente di lì, il vicepresidente di là, tutta gente che bene o male piglia già a fior di migliaia di euro e più uno addirittura è venuto fuori e pigliava 5.000 euro il mese come contributo per un anno, cioè io rimango allibito e noi si continuano a pagare e le nostre tazze continuano a aumentare. Qui bisognerebbe veramente che il signor Renzi discesse, signori, siccome voi avete rubato per tutta la vita, va bene? Allora, noi bisogna fare un taglio netto, abbassare le tasse al cento per cento, cioè proprio mettere al massimo al 30 per cento e dire, questi signori qui hanno già pagato, stanno pagando tutte le marachelle che hanno fatto i politici e negli amici dei politici, ai politici degli amici, eccetera eccetera. Vabbè, come al solito, naturalmente sono in macchina, come al solito dico, appunto, mani sul volante, auricolare o viva voce e cintura di sicurezza. Mi raccomando, un salutino da Radio Stilo al mio amico Alessandro, Alessandro, il trombi naturalmente, cioè trombi è in cognome, ora non lo voglio dire più. E poi niente, buona giornata, l'altra sera ho detto il sole alto e il cielo è blu, mi riferivo che oggi il sole alto e il cielo è blu. Buona giornata.